Io mi presento, sono Katia Sannicandro, dell'Università di Modena e Reggio Emilia e sarò il vostro chair per questa sessione. Chiamo le colleghe dell'Ateneo che ci ospita, Erika Iena e Brigida Clemente. Buongiorno a tutti, io sono Erika Iena e lavoro presso il CEA, Centro Learning di Ateneo di questa università. Mi occupo prevalentemente della preparazione di corsi e-learning e collaboro anche con diverse scuole di Foggia e provincia all'interno delle quali ho la possibilità di sperimentare delle esperienze didattiche che cerchino di associare l'utilizzo delle tecnologie a metodologie didattiche innovative. Ed oggi presentiamo proprio un'idea progettuale che è nata dalla collaborazione tra l'Università degli Studi di Foggia e l'Istituto Comprensivo Pascoli di Santa Chiara, che tra l'altro è ubicato proprio qui vicino. Partendo da quelle che sono le linee guida del piano della scuola digitale, abbiamo cercato di realizzare un ambiente didattico che cercasse di associare l'utilizzo delle tecnologie a queste metodologie didattiche innovative ed in particolare cercando quindi di rinnovare un po' l'ambiente di apprendimento. Data questa premessa, cosa abbiamo cercato di studiare? Partendo un po' anche dal passato, dalla letteratura ed in particolare ci siamo soffermati sul luogo, sulla classe. Come era intesa la classe e come oggi noi progettiamo l'aula didattica? Ovviamente l'utilizzo delle tecnologie non è relegato a un'esperienza che possa apportare soltanto dei benefici perché utilizziamo una determinata tecnologia in classe, ma abbiamo avuto una visione olistica nel complesso che tenga conto degli studenti, dei docenti, delle risorse e di quelli che sono i contenuti disciplinari. Partendo da Frenet che utilizzò il termine tecnica, la tecnica era praticamente o uno strumento o una metodologia che cercasse di risolvere quelli che erano i bisogni, o meglio a secondare quelli che erano i bisogni degli alunni e da qui noi infatti siamo partite per consentire anche dei piani di studio individualizzati e per far sì che il docente avesse più ruolo di facilitatore che di autorità vera e propria che imponesse quindi proprio sapere come avveniva anticamente. E quindi tutto questo che cosa consente? Di mettere al centro gli studenti e quindi attraverso il loro impegno attivo di promuovere un apprendimento cooperativo, di far sì che i docenti, come ho detto prima, cercassero di risolvere quelli che sono i bisogni primari degli alunni e di tener conto quindi anche delle differenze individuali, attraverso ovviamente dei feedback formativi che tengano conto sia dei contenuti disciplinari delle singole materie che anche dei criteri di valutazione. Di conseguenza l'ambiente non è più fisico ma diventa virtuale, perché poi si aprono anche delle collaborazioni con istituti un po' di tutto il mondo. Qui la mia collega Brigida Clemente è un referente del progetto E-Tweening. Non so chi di voi lo conosce ma E-Tweening associa appunto questa filosofia proprio di didattica, ossia quella di utilizzare la corrispondenza come faceva anticamente Frenet tra le varie scuole per consentire appunto uno scambio culturale a 360 gradi e far sì che quindi sia i docenti che gli studenti traggano dei benefici da ovviamente questo quello che è proprio una collaborazione. Quindi come ho detto prima si parte da un ecosistema. La scuola è intesa anche attraverso il piano digitale come un luogo da rivivere, reinventare ed è proprio quello che abbiamo cercato di fare io e la mia collega, ossia di studiare un'aula didattica innovativa. Si rifà questo al concetto di Antonio Calvani di ergonomia didattica, che analizza proprio il rapporto tra le tecnologie e le strategie didattiche adeguate. Dunque, partendo da tale premessa, lascio la parola alla mia collega per parlare meglio nel dettaglio del progetto. Sì, allora io sono Brigida Clemente e mi occupo di innovazione didattica in un istituto comprensivo qui di Foggia, che è appunto l'Istituto Santa Chiara, dove svolgo il ruolo di vicaria. E come accennava Erika, svolgo anche il ruolo di ambasciatore nazionale della piattaforma E-Twinning in collegamento con l'Indire, quindi l'ente accreditato dal MIUR per la ricerca nazionale. Il progetto infatti nasce da quelle che sono le indicazioni fornite dalla legge sulla buona scuola, quindi la legge 107 del 2015, il cui documento cardine è il piano nazionale scuola digitale. Nel piano nazionale scuola digitale c'è un'azione, l'azione 7, che è finalizzata proprio alla realizzazione di laboratori. E quindi in attuazione di un decreto, il ministero lo scorso anno emanò un bando, e quindi partecipai a questo bando per la realizzazione proprio di ambienti di apprendimento innovativi. E da qui nasce la collaborazione. Parlando insomma con Erika su ipotesi di sperimentazione, abbiamo pensato di partire da una strategia metodologica che è il Games Based Learning, ovvero l'apprendimento basato sul progetto, che è sicuramente uno strumento a vantaggio dei docenti e diventa gamification poi quando inseriamo il digitale, è una metodologia didattica perché ovviamente prevede una struttura di un determinato tipo, ma è anche un obiettivo perché ovviamente poi va a inglobare quella che è la vision e la mission della scuola, e quindi anche le linee guida del dirigente, è importante che tutto sia armonizzato. Perché? Perché il tutto, come accennava Erika, deve essere armonizzato in termini di spazi, in termini di arredi, di strumenti e in termini di formazione dei docenti. Qual era la finalità principale a cui noi pensavamo? Innanzitutto un adeguamento delle competenze dei docenti. È fondamentale perché il docente, affinché possa sviluppare una didattica innovativa in un ambiente di apprendimento innovativo, deve essere un docente capace, un docente competente, all'uso sia degli arredi sia degli strumenti, quindi dell'intero setting, e ovviamente capace di porre in essere una metodologia didattica innovativa, che non sia semplicemente una trasmissione, una mera trasmissione di saperi. E ovviamente nelle finalità rientra di default anche quella riferita allo sviluppo delle competenze degli studenti, perché in questo modo gli studenti trovandosi in un ambiente di apprendimento, in un ambiente formativo innovativo e con docenti innovativi, riescono a sviluppare meglio le otto competenze chiavi per l'apprendimento permanente della direttiva europea, poi richiamate nelle indicazioni nazionali del 2012 e riviste nel 2018. I risultati attesi quali sono? E soprattutto l'impatto che abbiamo previsto sugli apprendimenti. Richiamo, quindi ritorno un attimo indietro, sì è necessaria la formazione dei docenti, una formazione che li veda sviluppare competenze nell'uso di arredi, strumenti, applicazioni di metodologie didattiche innovative, che vedremo tra un po', e ovviamente di default lo sviluppo delle competenze negli studenti. che succede dal punto di vista degli obiettivi, quindi passando dalla situazione macro, delle finalità, a quella degli obiettivi specifici? Cosa si vuol fare? Gli studenti, i docenti, scusate, saranno i facilitatori degli apprendimenti attivi e laboratoriali, quindi si prevede uno studente attivo, uno studente protagonista del proprio apprendimento, costruttore delle proprie conoscenze, dove in ambienti laboratoriali, quindi una didattica laboratoriale che sia un punto d'incontro tra il sapere e il saper fare. La sperimentazione in questi ambienti di contenuti digitali, e quindi penso per esempio il passaggio dal tinkering, poi per esempio lo sviluppo del pensiero computazionale, l'uso della stampante 3D, che vedono tutte attività laboratoriali che vedono lo studente al centro della costruzione del proprio sapere, quindi protagonista attivo. I presupposti metodologici, ovviamente, sono presupposti che si adattano al nuovo setting, faccio riferimento all'edotainment e quindi, come dicevo già prima, il richiamo al gioco, e l'importanza nell'ambito di questo processo di innovazione didattica, che punta soprattutto alla collaborazione, nell'ambito di questo anche lo sviluppo di apprendimenti individualizzati, proprio grazie alle nuove tecnologie. Non manca il cooperative learning, quindi strategie di questo tipo, il learning by doing, ovviamente, quindi l'apprendimento attraverso il fare, e la flessibilità, perché comunque, come vedremo anche tra un attimo, anche gli arredi, anche gli strumenti sono flessibili. Le attività, quindi, saranno attività di autoapprendimento, perché la struttura del nuovo ambiente, dell'ambiente innovativo, quella progettata per questo istituto scolastico, prevede momenti di autoapprendimento, ma sicuramente momenti in cui il docente trasforma il proprio ruolo. Il docente, quindi, da mero soggetto che trasmette i saperi, diventa un moderatore, e quindi colui che in classe offre agli studenti suggerimenti, suggerisce le correzioni, ma soprattutto stimola lo studente a riflettere sui propri errori. E quindi, come dicevamo prima, l'importanza anche di fruire, di poter fruire di una piattaforma digitale, in cui il tutto possa essere anche riprodotto in modalità virtuale. E quindi noi, essendo anche l'Istituto Santa Chiara una scuola certificata, i twinning, dall'unità centrale di Bruxelles, noi ci avvarremo di questa piattaforma, tra l'altro che ci consente di realizzare una didattica innovativa già da un po' di anni, perché? Perché prevede proprio la possibilità per i docenti e gli studenti di approcciarsi al processo di insegnamento e apprendimento attraverso una didattica che vede il supporto delle tecnologie digitali e in più l'uso veicolare della lingua inglese. E quindi vediamo come abbiamo progettato il setting di questi ambienti, perché il bando chiedeva 80 metri quadrati, noi li abbiamo ricavati da quattro ambienti, abbiamo pensato ad un ambiente di investigazione, un ambiente di creazione, uno di presentazione e uno di archiviazione. Nell'ambiente di investigazione abbiamo pensato di realizzare un laboratorio stile Munari e quindi proprio i classici laboratori del fare sulla scia di quelli che erano i laboratori progettati da Munari. Lo spazio di creazione, vedete esattamente questo qui, prevede tavoli, banchi di questa tipologia, quindi banchi che sono aggregabili a cerchio, a S, in cui effettivamente gli arredi, quindi vedete gli arredi, sono flessibili e sono flessibili nell'ottica di un apprendimento flessibile, di una didattica flessibile, dell'uso di strumenti che sono effettivamente flessibili. La creazione e quindi poi la presentazione, perché abbiamo progettato anche uno spazio molto accogliente per gli studenti, dove lo studente è al centro dell'attenzione, quindi un teatrino di questo tipo, ovviamente noi facciamo riferimento a un istituto comprensivo, quindi una scuola del primo ciclo che va dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado. Quindi gli studenti qui si sentiranno a proprio agio nella presentazione delle proprie ricerche, dei propri elaborati. Gli strumenti quali saranno? Perché ovviamente il progetto ci chiedeva proprio di elencare precisamente quali dovessero essere gli strumenti utili per questo tipo di ambiente di apprendimento e utili per realizzare una determinata metodologia didattica. E quindi abbiamo ovviamente previsto le LIM, abbiamo previsto tablet e laptop touch per quei particolari banchetti di quella forma a semicerchio. L'utilizzo di Open Educational Resource è ovviamente il cloud, quindi una perfetta connessione a internet, tra l'altro auspicata e finanziata anche dal Piano Nazionale Scuola Digitale. Abbiamo pensato anche ad un acquisto di Lego WeDo e per lo sviluppo anche del pensiero computazionale. Le STEM e quindi anche attività di scienze, tecnologie, ingegneria e matematica. L'utilizzo della stampante 3D con software applicativi. La community quindi diventa una community reale e virtuale. Faccio continuamente cenno alla piattaforma che utilizzeremo perché è una piattaforma che ci consentirà anche di effettuare la fase della valutazione, perché ovviamente ci avvarremo di rubric di valutazione per valutare che cosa, non gli esiti ma i processi. E quindi il processo di apprendimento degli studenti attraverso una documentazione delle attività, quindi con video, immagini, e soprattutto utilizzando un'autobrografia cognitiva degli studenti che saranno impegnati nella costante elaborazione di un diario di bordo del progetto. L'ultima fase ovviamente richiama la parte iniziale del nostro intervento è quella della formazione dei docenti, quindi è importante per un'armonizzazione e quindi per rendere fruibili a tutti gli studenti attrezzature, arredi, software, le nuove metodologie, gli spazi nell'ambiente di apprendimento innovativo, i docenti dovranno essere formati sull'uso della stampante 3D, sull'uso dei kit di robotica educativa, sui Lego WeDo, sui Little Bits per il tinkering, e anche l'utilizzo di web tools fondamentali per l'implementazione della piattaforma virtuale. Grazie per l'attenzione. Ringraziamo le colleghe, segnatevi le domande eventuali, punti di interesse per il dibattito finale.